Allora, sono arrivato un pochino scettico a questo corso perché come ogni cosa io arrivo scettico, dovevo prima conoscere eccetera. Mi è piaciuto tanto Patrizia, Patrizia è proprio semplice e tutto quello che c'è intorno a lei lo fa con semplicità e con onestà del suo essere. Quindi è questo che mi è piaciuto veramente tanto e mi porterò dietro tantissimo e credo che comunque sia nella mia professione sia nella mia vita cambierà tanto. Consiglierei questo corso perché molte volte non si conosce quanto si può andare al di là delle cose. E quindi venire a un corso come questo ti fa conoscere veramente un sacco di cose che in realtà prima non sapevi. Ho lasciato andare una piccola parte di me che in questo periodo mi sto portando dietro e spero di averla risolta, che si vedrà nella praticità delle cose. Però sono convinto che oltre a quello che ho lasciato andare adesso ci saranno molte cose che risolverò col passare del tempo. Beh Patrizia non è ringraziabile perché veramente come ho detto all'inizio è proprio la sua semplicità. Va ringraziata il suo modo di essere e come ti aiuta ad andare avanti nelle situazioni più difficili. Quindi certo grazie Patrizia, è ovvio ecco. Grazie a tutti.